L'UEFA ha scelto l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Chelsea e nel programma il 23 febbraio alle 21 si disputerà all'Arena Nacional di Bucharest. La UEFA desidera esprimere la sua gratitudine all'Atletico Madrid e al Chelsea per il sostegno e la stretta collaborazione, nonché alla Federcalcio rumena, per l'assistenza e per aver accettato di organizzare la partita. Informa l'UEFA in una nota, il campo neutro è reso necessario a causa delle restrizioni sui voli provenienti dal Regno Unito che potrebbero prolungarsi fino al 2 marzo. Erano già state spostate diverse gare di Europa League e di Champions League in varie città europee. Lo Stadio Olimpico di Roma ospiterà l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League tra Benfica e Arsenal in programma giovedì 18 febbraio alle ore 21. La gara si sarebbe dovuta disputare regolarmente a Lisbona ma le limitazioni imposte dal Portogallo sui voli provenienti dal Regno Unito hanno costretto la UEFA a correre ai ripari cercando una soluzione alternativa. La sfida di ritorno invece si giocherà nell'impianto dell'Olimpiaco a Sadatene. L'Italia farà da campo neutro anche per le gare di Europa League tra Real Sociedad e Manchester United che si disputerà a Torino sempre il 18 febbraio. Un altro K.O. contro le big per Paolo Fonseca e l'umore dei Fritkin è tutt'altro che solare. Contro la Juventus la Roma non riesce a interrompere un trend che la vede sempre faticare contro le squadre di alta classifica. Anche a Torino e giallorossi hanno evidenziato i soliti limiti ormai noti contro le grandi. Il futuro del tecnico portoghese resta più che mai in bilico. La Roma in un anno non ha fatto passi avanti e la situazione attuale è identica a quella della scorsa stagione. Per questo la possibilità di vedere Massimiliano Allegri all'Olimpico per il 2021-2022 resta accesa. Mark Marquez è il gesto da campione confermato ma allo stesso tempo rifiutato da Honda. Il pluricampione mondiale spagnolo è rimasto fuori dei giochi praticamente per tutta la scorsa stagione dopo l'infortunio al braccio rimediato a Erez. Da lì in poi un lungo calvario che ha costretto l'Iberico a guardare da casa il Mondiale 2020. Proprio per questo Marquez si era offerto di non percepire lo stipendio di questa annata. Dal Giappone hanno apprezzato senza però accogliere la volontà del proprio pilota. Secondo varie testate spagnole, Marquez aveva infatti informato il proprio team di non volersi intascare uno stipendio che non si è guadagnato in pista. Il contratto di Mark prevedeva già inizialmente un taglio parziale nel caso ci fosse stata un'assenza prolungata. Lo stesso pilota è voluto venire ancora più incontro all'ala dorata ma quest'ultima ha rifiutato. L'ottimismo intanto per il rientro di Marquez aumenta. Il nativo di Cervera ha presenziato nella giornata dedicata alle foto ufficiali di Honda assieme al nuovo compagno di box Paul Espargaro.